Sicuramente questo come quello dell'anno scorso è un anno particolare, un anno di pandemia dove il mondo intero è in sofferenza, l'Italia, la nostra regione campana ma soprattutto i paesi turistici come i paesi della Costa Damalfi e Positano. E' anche vero che è proprio in questi momenti che bisogna essere tenaci, investire ancora di più e investire in particolare in cultura. Quindi proprio per questo non vogliamo rinunciare al Positano Teatro Festival, premio Annibale Ruccello, anche se per quest'anno in una versione ridotta ma sicuramente di altissimo profilo e qualità. Un messaggio forte che voglio lanciare proprio da qui è quello di restituire dignità, speranza e lavoro soprattutto a tutti gli artisti del mondo dello spettacolo che da toppo tempo sono fermi e Positano deve essere il palcoscenico della ripartenza. Certamente oggi viviamo un momento difficile anche per quanto riguarda il rispetto di tutte quelle che sono le regole che dobbiamo tenere presenti nell'organizzazione di eventi, manifestazioni che tra l'altro mutano e cambiano di continuo e questo non rende facile l'organizzazione di qualsiasi tipo di manifestazione. in particolare per quanto riguarda il nostro teatro, il punto di forza di questa iniziativa era proprio la sua natura itinerante. Chiaramente nel rispetto delle ultime disposizioni che ci sono pervenute abbiamo dovuto reinventarci. Quindi l'obiettivo sarà quello di sfruttare il nostro anfiteatro, di creare una sorta di bolla e di portare avanti un evento che sarà uno dei primi eventi covid free nella costiera amalfitana. Per quest'anno la rassegna andrà in scena il 7, l'8, il 9 e il 10 agosto. Le sorprese saranno tante quindi vi aspettiamo tutti numerosi all'anfiteatro che abbiamo qui a Positano. Chiaramente però quelle che sono le anteprima non tocca a me a doverle anticipare ma credo sia giusto e opportuno lasciare la parola al nostro direttore artistico. il nostro Gerardo D'Andrea che ringrazio di cuore a nome... Buongiorno Gerardo, io ti volevo prima di passare la parola ringraziarti per tutto quello che hai fatto per Positano in questi anni perché chiaramente se il teatro e questa iniziativa e questo festival è un teatro di successo è esattamente merito tuo che rappresenti l'anima e il cuore di questa manifestazione. E soprattutto grazie al vostro sostegno perché senza di questo assolutamente non c'è niente da fare. Volevate sapere il programma? No, non lo dico, lo dirò insieme al sindaco nella conferenza stampa che si farà. Vi posso però dire una grossa anticipazione. L'anticipazione si tratta di uno spettacolo su Milva, recentemente scomparsa questa grande, incredibile, maestosa interprete, attrice ed artista. Ed ecco perché ci sarà un filo conduttore. Mentre Antonella Morea che è l'artista che canta, c'è l'attrice Martina Carpi che racconterà e congiungerà queste onde meravigliose e sonore. Poi voglio concludere per non perdere tempo. Venite al teatro, come dico sempre da vent'anni. Venite al teatro perché tra le altre cose al teatro si impara che a differenza di quello che si crede e che si scrive, che la verità non sta nel mezzo ma sta in profondità e che bisogna scavare assolutamente molto per poterla trovare. E a teatro ci si riesce. Buon teatro e buona vita a tutti. A presto. Grazie a tutti.